Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui mi vedete vestita, toccata si fa per dire, pettinata come il video precedente, ma approfitto del fatto che mi sono sistemata oggi per registrare un ulteriore video e parliamo sempre di profumi, in realtà parliamo di body mist, vi sto facendo in questi giorni una carrellata di profumi estivi, acque per il corpo, vi avevo già preannunciato in qualche video fa in cui ve ne mostravo una di queste acque di cui vi vado a parlare che ne avevo prese delle altre e che probabilmente avrei dedicato un video, la linea prevede altre profumazioni ma insomma io non le ho prese tutte, ho preso quelle che ovviamente mi hanno colpita di più e che assolutamente vorrei consigliarvi e sto parlando delle acque profumate delle body mist di Shaka che potete trovare nei punti vendita OVS e sinceramente non so se è possibile reperirle anche online. Allora questa linea è una linea dedicata alla dolcezza perché sono tutte profumazioni dedicate proprio allo zucchero, alle caramelle, quindi profumazioni molto dolci ma secondo me perfette anche per la stagione estiva perché parliamo di body mist e quindi una concentrazione non elevatissima e anche la persistenza insomma lascia il tempo che trova nel senso che siamo sulle due ore che per me in estate va benissimo comunque perché mi piace anche il fatto di portare l'acqua profumata in borsa in giro con me e spruzzarla quando ho la necessità proprio di darmi una botta di energia e di rinvigorirmi Allora le profumazioni che io ho preso Sweet Mask e questa forse è stata la seconda che ho acquistato sono proprio tornata volutamente per prendere questa body mist perché credo che tra tutte quelle che ho visto da OVS sono circa 5 forse 5-6 questa devo dire è quella che probabilmente si discosta un po' di più rispetto diciamo a quel filo conduttore che lega queste body mist perché la trovo più fresca è un buonissimo muschio molto molto delicato un muschio sicuramente fiorito in cui sicuramente ci sono fiori, fiori bianchi perché il profumo evolve poi con sentori quasi talcati ed è un muschio quasi acquatico molto molto fresco, molto molto dolce con la presenza di una piccola nota insomma di una nota dolce quasi di caramella non so, una caramella alla fragola è veramente una profumazione delicatissima molto molto gradevole che dà appunto una sensazione di freschezza quindi se amate i muschi allora questo profumo non sa di muschio bianco per intenderci non è il classico muschio tipo quello dei tesori d'oriente o di The Body Shop non so, il muschio di erbolario è un muschio totalmente diverso molto fresco, molto fiorito ma che allo stesso tempo sa di caramella neanche di caramella alla fragola sa di quelle caramelle avete presente le caramelle leone mi pare che si chiamino quelle lì dentro la scatolina che ci sono anche le caramelline ai fiori le caramelline alla violetta quindi un muschio molto delicato molto dolce ma allo stesso tempo un po' caramelloso è un po' fiorito consigliatissima questa Body Mist poi vi avevo mostrato anche questa ed è Candy Party a parte le boccette che sono veramente molto molto carine qui troviamo stampate tutte le caramelline tutte colorate e appunto Candy Party è una Body Mist che sa proprio di caramella allora questa ha anche un leggero sentore mandorlato è una caramella sicuramente un confetto un confetto alla mandorla questo è anche molto molto particolare dolce sì ma sicuramente non qualcosa di stucchevole sento proprio quasi una nota di mandorla amara quindi è una caramellina un confetto con la parte glassata sopra quindi con questo zucchero croccante e dolce ma con un cuore un po' più amaro tipo sa di amaretto si è senz'altro una caramellina alla mandorla e poi però questa parte un pochino più amara si perde diciamo in un si libera insomma si adagia su un fondo un pochino più dolce un pochino più vanigliato molto molto carina anche questa candy party mi pare che ci sia anche un allo zucchero sugar deliz forse qualcosa del genere adesso non mi ricordo e sweet cream questa qui dovrei andare a sentirla nuovamente perché mi ha lasciato un po' così ho detto non lo so perché da me ho trovato il tester e quindi sono riuscita ad acquistarla di solito di queste body mist non ci sono mai tester io sinceramente non le provo in negozio perché non mi sembra carino se poi io la lascio lì che sono andata a provarla magari un'altra dopo di me lo fa e non è giusto insomma se non c'è il tester il profumo non si prova molto molto carina anche questa il prezzo non ve l'ho detto sono formati da 200 ml vengono 8,90 euro una menzione particolare la devo fare per questa la soft caramel e vi ho detto tutto perché la soft caramel quando l'ho provata dopo una decina di minuti mi ha ricordato qualcosa che io ho già e che quindi ho già sentito allora questa è una classica profumazione al caramello che vi deve piacere quindi ci sento tanto caramello tanto un caramello non proprio dolce 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 non so perché io ci sento anche una noticina salata comunque è un profumo che sa di caramello puro molto dolce sa proprio di caramella sa di quasi quasi di frolla di pasta frolla molto dolce fragrante ma questo profumo dopo una decina di minuti questa body mist diventa identica alla coconut passion di victoria secret praticamente identica la persistenza devo dire che quella di victoria secret ha certamente una persistenza superiore però la profumazione è identica ovvio che quella di victoria secret si è in sconto spesso diciamo anche su un notino possiamo trovarli a prezzi molto vantaggiosi direi quasi simili a questa io vi consiglio assolutamente di prendere quella in quanto è più incisiva un pochino più si aggrappa un po' di più alla pelle ma viceversa questa è una buona alternativa low cost ed è una profumazione gradevolissima proprio questo caramello molto molto dolce devo dire anche che non sa proprio tanto di sintetico questa profumazione molto carina devo dire dolce ma allo stesso tempo secondo me perfetta per il periodo estivo perché poi si alleggerisce con la presenza proprio della nota di cocco che io sento tantissimo e dopo diverse ore appunto diventa molto molto simile alla coconut passion di victoria secret dunque io vi invito assolutamente se avete un punto vendito vs lì dalle vostre parti vi invito ad andare a sentire queste body mist perché sono molto molto carine soprattutto se amate come me le profumazioni dolci molto molto dolci ma questa cioè è strepitosa la candy party sa proprio di di confetto di mandorla sono tutte tutte buonissime io vi ringrazio spero che il video vi sia stato utile vi mando tanti tanti bacini se vi va ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao